Buongiorno a tutti, io sono Brani, vengo da Borizia, ho 34 anni, sono una mamma. Fino a fine aprile facevo a detta vendite presso un negozio di elettrodomestici, dopodiché ho deciso di volare tutto e aprire un mio studio di dentare amico tecnica. Prima del corso di Dual Form con Nathalie, facevo o semplice copertura con gel o semipermanente su unghia naturale, oppure provavo con la cartina, però la cosa era un po' difficile per me perché la cartina mi si staccava, oppure si spostava, oppure perdevo tantissimo tempo a limare. Era un metodo molto lento e molto faticoso per me. Durante il corso Dual Form con Nathalie ho imparato tantissime forme, ho imparato a fare una struttura perfetta, mi sono velocizzata nel fare il lavoro e più che altro ho imparato come deve essere l'unghia vista da tutte le parti che in tutti gli altri corsi non riuscivo a capire, non me lo facevano vedere dal lato, davanti, eccetera. Io personalmente mi sono trovata male con i corsi in presenza perché arrivavo a casa e non ricordavo niente. Io avevo fatto anche tanti altri corsi, sia anche in presenza, ma devo dire che dopo tutti i corsi avevo dei dubbi, non capivo bene le cose, dovevo andare a contattare la master oppure chi mi rispondeva perché nei corsi che seguivo io non mi rispondeva mai la master dalla quale io ho acquistato il corso, ma sempre una persona diversa. Mentre qua ero seguita sempre da Nathalie, insomma si riconosce nella voce. Sono contenta di questa cosa perché non devo sempre rispiegare dove avevo il dubbio. Vedere un video più volte ti aiuta a memorizzare anche le informazioni che magari la prima volta hai perso. Io quando avevo un dubbio andavo a vedere lezioni, cioè i video, dopodiché ho detto anche quella cosa che io magari la prima volta non avevo percepito. Per quanto riguarda Nathalie come master, io sono veramente molto contenta di aver incontrato e trovato il suo profilo. Lo seguo da tanto tempo, anche prima di pensare di fare questo lavoro. Mi è piaciuta da subito perché è molto chiara. Lei ti dice si fa così, non si fa così, è molto precisa, ti correggio ogni dettaglio e diciamo che non tralascia niente. Per quanto riguarda lei, io veramente consiglio di seguirla se non altro perché si può imparare tantissimo anche della vita personale, non solo del mestiere, ecco. Io ho il sole di corsi di consiglio al 100% e niente, ciao!